Bentornati alla sessione Training Camp, stiamo qui con le squadre di Punzo e di Prisco. È finito il primo tempo, presentatevi. Piacere, sono Gennaro. Piacere, Giuseppe. Michele. Giuseppe. Ok, ditemi qualcosa ai capitani. Questa è la prima amichevole, la cosa che si è capitata subito, che bisogna migliorare e giocare un po' in più insieme. Ok, tu cosa vuoi dire invece? Penso che stiamo facendo una bella partita e spero di continuare così. Allora, i gol li hanno fatti Piscetti, Suarino, Sannino e Cefariello. Quindi voi, di Scettia, scusate. Quindi voi siete in vantaggio? No, noi siamo in vantaggio. Svantaggio, giusto, giusto. Quindi cosa dovete migliorare? Dobbiamo migliorare un po' il centrocampo e un po' la velocità di scolazione della palla. Ditemi un po' invece i vostri punti di forza, cosa vorreste quindi fare al campionato? I nostri punti di forza sono i nostri tre nuovi acquisti. Attaccanti o difensori? Un difensore e due attaccanti. D'accordo, quindi alla prossima. Bentornati alla sessione training camp. Ci troviamo alla fine della partita di Di Prisco contro Punzo. Stradinariamente durante il secondo tempo c'è stata una ribalta, quindi la squadra di Di Prisco addirittura ha vinto 6 a 4. Ripresentiamo i giocatori. Il capitano? Giuseppe. Ciro. E di qua abbiamo Punzo? Salvatore Briola. Michele. Il capitano. Che cosa è successo? La partita si è messa in una versione diciamo sbagliata perché al centrocampo siamo venuti meno. Purtroppo Ciro Suarino è un po' egoista e quindi non passando il pallone non abbiamo giocato da squadra. Quindi è mancato un po' il gioco di squadra. E invece qual è stato il vostro punto di forza? Prima cosa è crederci fino alla fine e poi abbiamo giocato meglio rispetto al primo tempo più da squadra. A chi dedicate un gol? Agli amici. Tu? Non ho segnato. Dillo, dillo. Alla squadra. Alla squadra, voi? Io addio. Tu? Io non ho segnato. Lui non ha segnato, però quindi ti rifare al campionato? Ok, arrivederci alla prossima sessione.